Stampevangelo del 27 di aprile del 2017 è una diretta che oggi serve anche a verificare se sono state date le notifiche con l'avvio della diretta questo servirebbe a capire se dai numeri che vedo credo che la notifica dovrebbe essere arrivata a molti e fatemi allora salutare subito Andrea Cona, Cristina Zaccanti, Milena Brindisi-Trabona Francesca Patuzzi, Antonella Bagno, Lapongi Luppi dal nostro coordinamento editoriale ringrazio Lorenzo Casi che ci conferma che oggi la notifica è arrivata saluto anche Nicola Di Matteo siamo nel momento di massimo sforzo per la costruzione delle liste alle amministrative le dobbiamo presentare entro l'11 maggio quindi siamo come popolo della famiglia davvero impegnato è arrivato anche Lorenzo Damiano, il nostro candidato sindaco a Conegliano che saluto, incoraggio Rosa Grazia Pellegrino, Miriam Mirkoli, Marianna Puzzo, Antonella Bagno Mary Rossi impegnata col popolo della famiglia a Padova la costruzione della lista, io sarò a Padova il 6 di maggio per la definitiva raccolta firme in un'iniziativa insieme al nostro candidato sindaco che si chiama Sposato popolo della famiglia evidentemente saluto Paola Procaccini, Marco Rapetti Arrigoni, Prisca Vegni, Paul Freeman la bella Francesca Patuzzi, Nicolò Marino insomma, quando le notifiche funzionano come vedi i numeri sono altri un abbraccio a tutti, vi chiedo un mi piace e un condividi per far avere a più persone possibili questa nostra diretta sarà molto importante, vi comunicherò dei dati inediti che è utile conoscere saluto Don Francesco Morcavallo saluto Fabio Freddi Raffaella Ritorto Paola Perissinotto e andiamo a leggere il Vangelo di oggi il Vangelo di Giovanni, sempre terzo capitolo versetti dal 31 al 36 in quel tempo Gesù disse a Nicodemo colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra chi viene dal cielo è al di sopra di tutti egli attesta ciò che ha visto e udito eppure nessuno accetta la sua testimonianza chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo spirito senza misura il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa chi crede nel figlio ha la vita eterna chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio incombe su di lui è parola del Signore come sempre, come vedete il Vangelo è molto netto separa chi crede, chi non crede chi obbedisce, chi non obbedisce non è, siamo tutti una grande famiglia vogliamo essere tutti bene è irrilevante qualsiasi cosa non funziona così il Vangelo è un libro che va letto in particolare il Vangelo di Giovanni così ricco, diciamo così anche di riferimenti utili alla costruzione dottrinale si è già bloccata una volta la diretta io devo dirvi che oggi dovrò andare via perché vado a fare una diretta a Canale 5 anzi se volete dalle 9.20 potete vedermi in diretta a Canale 5 nella trasmissione Mattino 5 per cui di fatto proseguono le tematiche che si affrontano qui a Stampe Vangelo anche in una platea più ampia come quella televisiva così come ieri c'è stata la possibilità di ascoltarmi nella dimensione radiofonica nell'intervista alla Zanzara che il caro Nicola Pasqualato ha messo online per la fruizione da parte di tutti è arrivato anche Alberto Cerutti il nostro grandissimo candidato sindaco a Borgo Manero da cui ci aspettiamo grandi risultati c'è Mirko De Carli candidato sindaco a Riolo Raffaella Di Nolfi si sta occupando della chiusura delle liste in campagna Maria Rosaria Novello mi chiede su quale tema parleremo della Macron della signora Macron insomma un argomento su cui la nostra posizione pare essere così scandalosa da volerla ascoltare in televisione cercheremo di motivare alcune frasi che avete già ascoltato nella diretta di Stampevangelo ieri e che per chi ha voluto anche nell'intervista alla Zanzara alle 10.30 darò un'intervista anche a Radio Cusano Campus quindi dalle 9.20 mi trovate a Canale 5 dalle 10.30 per chi vuole a Radio Cusano Campus questi sono gli impegni di giornata però prima la diretta di Stampevangelo sempre prima di tutto l'incontro con il popolo della famiglia tra l'altro impegnato davvero tanto nella costruzione delle liste siccome la facciamo tanta fatica dobbiamo anche dirci qualche volta perché la facciamo tutta questa fatica per esempio basta leggere i dati emersi da una risposta di Beatrice Lorenzin alla Camera non più di 48 ore fa sul tema degli aborti clandestini è una relazione impressionante la Lorenzin afferma che ci sono almeno 15.000 aborti clandestini l'anno almeno 15.000 aborti clandestini fuori dalla legge 194 per la precisione dice sono tra i 12 e i 15.000 di italiane tra i 2 e i 5.000 di straniere sul territorio italiano ora subire partire l'interrogazione è partita con l'obiettivo di dire che la causa è l'obiezione di coscienza dei medici tutto falso la causa in realtà è che siccome in Italia si può abortire solo fino alla tredicesima settimana molti arrivano dopo la 394 viene violata oltre a essere applicata in maniera così ignobile da provocare 105.000 aborti l'anno quelli chirurgici regolari in ospedale che sono una vergogna una mattanza ricordo anche oggi saranno uccisi 287 bambini da questa legge infame in più ci devono spiegare perché se esistono come dice Beatrice Lorenzin accertanti almeno 15.000 casi di aborto clandestino i procedimenti penali su questi casi sono appena 33 se sai che ci sono 15.000 violazioni di legge perché ci sono 33 procedimenti che coinvolgono solamente 42 persone la violazione sarà compiuta almeno da 30.000 persone donna più medico diciamo così almeno e invece gli inquisiti sono 42 con appena 33 procedimenti penali attivi c'è qualcosa che evidentemente non va come popolo della famiglia lo denunciamo ancora una volta lo denunciamo solo noi lo denunciamo con grande preoccupazione insieme alla battaglia che è fondante per le ragioni per cui siamo in questo momento a fare le viste in tutta Italia che è la battaglia la battaglia per il diritto universale a nascere per battere una cultura necrofila della morte che provoca aborti e denatalità e per il reddito di maternità questi sono elementi fondanti dell'impegno di chi si impegna nel popolo della famiglia la domanda è perché facciamo tutta questa fatica ecco per queste ragioni perché incredibilmente una legge 194 che come dice Giulio Di Santo doveva servire ad azzerare le mammane ora invece è una legge che provoca almeno 15.000 aborti clandestini l'anno che non vengono in alcun modo perseguiti solo 33 procedimenti penali con 42 persone coinvolte il che vuol dire che in Italia sostanzialmente l'aborto è libero libero perché se non c'è sanzione di fatto non c'è limite alla legge e senza limitazioni noi quelli del popolo della famiglia ci battiamo siamo un movimento pro-life contro la cultura necrofila dell'aborto e dell'eutanasia consideriamo la denatalità una tragedia per l'Italia vogliamo che nascano figli e siamo contro l'aborto per il diritto universale a nascere un essere umano ha diritto a nascere qualsiasi essere umano ha diritto alla vita questa proclamazione non esiste il diritto ad abortire non esiste il diritto ad abortire esiste il diritto universale a nascere questa è la proclamazione fondante di chi si impegna nel popolo della famiglia ed è la ragione per cui andiamo casa per casa città per città a cercare consenso perché purtroppo le leggi si fanno col consenso per proclamare ufficialmente in costituzione sarebbe giusto farlo che in Italia la vita è sacra come dice Dario Marcello Soldan e dunque in Italia vige il diritto universale a nascere se il popolo della famiglia andrà al governo di questo paese porterà questo tipo di impostazione nella cultura di governo di un paese che invece è diventato necrofilo di un paese che invece ha deciso di seguire la cultura della morte questa è una notizia importante che volevo darvi oggi tramite Stampe e Vangelo parlerò ancora del caso Macron ripeto a canale 5 tra poco dalle 9.20 alle 10.30 mi occuperò anche di altre questioni nell'intervista a Radio Cusano Campus con oggi ci prendiamo una pausa con Stampe e Vangelo noi torneremo con Stampe e Vangelo da mercoledì 3 maggio perché con oggi ho una serie di impegni che mi impongono di fare una pausa anche conseguenti allo sforzo che stiamo facendo sulla campagna elettorale mia personale e di tutto il popolo e della famiglia quindi buon ponte del primo maggio a tutti e ragionate quando ci incontriamo in giro per l'Italia per dirci perché stiamo facendo tutta questa fatica ricordate i dati che vi ho dato oggi ricordate i dati che vi ho dato oggi sono dati certificati e ovviamente silenziati sulla stampa ufficialmente dati dal Ministro della Salute in risposta a un'interrogazione parlamentare del Movimento di Bersani Movimento Democratico e Progressisti in Parlamento quindi ufficiali e il Movimento di Bersani parla addirittura di 50.000 casi di aborti clandestini in Italia 50.000 il Ministro Lorenzin parla e dunque dà dei numeri precisi tra i 12.000 e i 15.000 di italiani tra i 2.000 e i 5.000 di stranieri stiamo parlando di minimo 15.000 casi di aborto clandestini in Italia coincidenza dunque superiore al 14% rispetto al monte complessivo degli aborti legali diciamo così in Italia si ammazzano più di 120.000 bambini all'anno in un paese che ha una denatalità e perde 300.000 italiani l'anno è accettabile fa bene al paese tutto questo o è meglio la ricetta del popolo e della famiglia per incentivare natalità progravare il diritto universale a nascere istituire il reddito di maternità per liberare davvero la donna e renderla padrona nel proprio destino anche della scelta di essere madre sono proposte più sensate noi riteniamoli sì la motivazione di fondo delle persone che si stanno impegnando in queste ore a chiudere le liste e raccogliere le firme per presentare le liste del popolo e della famiglia in tutta Italia lo ricordo a Verona con Filippo Cricolin a Patova con il candidato sindaco sposato a Conegliano con Lorenzo Damiano a Monza con Manuela Ponti a Crema con Luca Grossi ad Alessandria con il sindaco Locci a Genova con Stefano Arrighi a Borgo Manero con Alberto Cerutti a Riolo con Mirko De Carli e posso fare un elenco infinito ci sono gli avventotene ci sono gli amici campani ci sono gli amici di Avola in Sicilia bene tutti coloro che fanno questa battaglia questa enorme marea di gente che si sta candidando sta raccogliendo migliaia di firme lo fa con queste motivazioni come dice Alberto Cerutti noi che vogliamo davvero il bene comune la gente non ci crede la politica si è attesa incredibile ma noi dimostreremo come dice benissimo Alberto che il bene esiste la battaglia per il bene esiste saluto Marco Fasulo il nostro avamposto in Basilicata del popolo della famiglia saluto Emiliano Velasco allora vi ricordo che purtroppo devo andare sarò a Canale 5 dalle 9.20 sarò a Radio Cusano Campus dalle 10.30 poi ci prendiamo la pausa del ponte per lavorare tutti i dettagli che riguardano le nostre liste in giro per l'Italia vi ringrazio molto per l'affetto di questi giorni sono stati giorni anche come avete visto personalmente di fatica e di memoria dolorosa e ringrazio tutti per gli abbracci che sono giunti a me alla mia famiglia saluto Daniela Tascini saluto Ninnarello saluto Daniele Sommonte saluto anche Manuel Nari che dice ma smetti la ridicolo e noi lo salutiamo perché lui non è per niente ridicolo a passare la sua mattinata del giovedì ascoltando Stampe e Vangelo Claudio Torni dice reddito di cittadinanza noi diciamo reddito di maternità il popolo e la famiglia ritiene che la priorità sia far nascere bambini la priorità è la famiglia in questo paese per questo è nato il popolo e la famiglia per questo ci battiamo per questo vogliamo andare al governo delle comunità locali e del paese per dare il segnale e l'inversione di tendenza e far capire a tutti che questi elementi sono elementi prioritari la nostra battaglia per la vita si sostanzierà poi nella partecipazione massiccia a cui vi invito il 20 di maggio alla marcia per la vita qui a Roma il 20 maggio ci sarà la grande mobilitazione della marcia per la vita italiana e il popolo e la famiglia sarà presente con tutti i suoi rappresentanti vogliamo davvero essere presenti a questa grande mobilitazione nazionale per la vita contro la cultura necrofila a sostegno del diritto universale a nascere saluto Alberto Olivieri che parla del problema demografico in Italia saluto a Sonia Ducor saluto a Silvia Lodà che dice altrimenti ci estinguiamo e facciamo il gioco del demonio esattamente saluto Piera Giacometti Marco Berardi Andrew Clements dall'Australia noi ci ritroviamo alle 9.20 se riesco ad arrivare correndo a Canale 5 e dopo dalle 10.30 invece ci troviamo a a Radio Cusano Campus se vi interessa ovviamente da Maria Di Nolfi un abbraccio un abbraccio anche alla mia mamma che è arrivata in diretta adesso sapete che anche per lei sono giorni di fatica e sofferenza della memoria ma grazie a voi l'abbraccio è stato caloroso e davvero empatico lenendo un dolore che inevitabilmente come avete letto forse in alcune cose che ho scritto ieri è presente nel nostro cuore grazie a Moreno da Vicenza grazie ad Anna Russo grazie ad Anna Ciappa un abbraccio a tutti voi volo a Canale 5 ci si vede e poi ci si sente anche alle 10.30 se volete da Radio Cusano Campus da Maria Di Nolfi buona giornata appuntamento mercoledì 3 maggio con il ritorno in diretta di stampa e vangelo